A voi tutti, cari amici di Meteo Giuliacci, sarà un mercoledì freddo, ma bello al nord, soleggiato, soleggiato anche su buona parte del versante tirrenico più settentrionale. Attenzione sulla Sardegna e sulla Sicilia, sulla Sicilia su zone centro-settentrionali, sulla Sardegna soprattutto sulle zone più orientali, ha della instabilità, dei rovesci di pioggia. Attenzione alle regioni centro-meridionali, instabilità a tratti con delle nevicate, c'è una quota molto basse sull'Appennino centrale, due o trecento metri. Attenzione anche sul Lazio, non escludiamo delle possibili bianche sorprese a Roma e zone limitrofe. Attenzione, magari miste a pioggia in prima mattinata soprattutto, poi tende a migliorare. Però guardate poi sul resto del sud Italia, instabilità, soprattutto vedete nelle zone interne appenniniche, zone interne appenniniche con dei rovesci di pioggia e delle nevicate, fioccate, sino a quote molto molto basse, di bassa collina. È tutto, buon proseguimento di giornate di settimana. Arrivederci!